Mercoledì 17 aprile scade il termine di presentazione delle liste per le elezioni europee. Ecco i candidati in Sicilia e Sardegna del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. La lista dei candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni europee del 26 maggio per la circoscrizione Isole. Quindi Sicilia e Sardegna la presenta il segretario regionale del Partito Democratico Davide Faraone che annuncia ottima lista, niente correnti, più donne che uomini, renziani, zingarettiani, calendiani. No, alle europee ci sarà la lista delle PD. Inutile lo sport di guardarla in controluce per capire chi appartiene a chi. C'è gente fresca, bella e sarà un piacere fare la campagna elettorale. Il tema non sarà la competizione tra le correnti delle PD, di cui non frega niente a nessuno. Ma come arginiamo i gialloverdi che stanno distruggendo il paese? Quindi ci sarà Caterina Chinnici, eurodeputata uscente, che corre per continuare l'ottimo lavoro sul fronte della legalità. Michela Giuffrida, che ha fatto bene a Bruxelles e che in questi anni ha lavorato per far contare di più la Sicilia e un'Europa. Ci sarà Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, simbolo di un'isola solidale, accogliente. In mellista anche Mila Spiccola, insegnante da sempre impegnata sui temi del diritto allo studio, dell'abbandono scolastico e delle periferie. C'è Attilio Licciardi, ex sindaco di Ustica e dirigente di primo piano della sinistra siciliana. Virginia Puzzolo, ricercatrice della Commissione europea nel campo dell'aerospazio. E Leonardo Ciaccio, straordinario sindaco di Sambuca di Sicilia, borgo dei borghi 2016. E poi il sardo in lista è Andrea Soddu, sindaco di Nuoro. Ecco la lista delle PD, una squadra che parla alla società civile e non ai ras delle preferenze, che interpreta fino in fondo la voglia di novità, di cambiamento, di nuova politica. Con i nostri candidati gireremo comune per comune. Racconteremo il nostro programma per una nuova Europa e per una Sicilia che conti di più, conclude Davide Faraone. E poi altra lista ormai definita del Movimento 5 Stelle. Capo lista in Sicilia e Sardegna sarà una sarda. Si tratta di Alessandra Todde, 49 anni, di Nuoro, amministratore delegato di Oli Data. Alessandra Todde ha due lauree, in scienze dell'informatica e ingegneria. Ed è tra le 50 donne italiane più influenti nel mondo della tecnologia. Luigi Di Maio, che candida 5 donne come capolista nelle 5 circoscrizioni in Italia, non avrebbe trovato nessuna donna in Sicilia, dove nessuno intenderebbe ostacolare Ignazio Corrao, eurodeputato uscente e più votato alle euro parlamentarie del Movimento 5 Stelle. con 2.839 voti sulla piattaforma Russo. L'altro candidato sardo in elista è Donato Forcillo. Gli altri sono siciliani. Insieme a Corrao, Dino Giarrusso, Flavia Di Pietro, Matilde Montaudo, Antonio Brunetto e Antonella Corrado.